Parlando solo di numeri a livello giornalistico abbiamo visto attraverso alcuni dati Wordpress e Google Analytics che solo il mondo del calcio dilettanti riesce a fare in proporzione quasi due terzi di elettori in più rispetto a quelli che fa normalmente l'Arezzo. Nasce da un'idea della cooperativa di giornalisti Nume Diar, il primo gran galà del calcio dilettantistico a retino. Un evento che riunisce tutti i protagonisti di questa stagione calcistica con riconoscimenti a società sportivi e arbitri. Abbiamo pensato a una manifestazione che interessi non solo le prime squadre ma anche i settori giovanili. Infatti sarà divisa in due momenti questa giornata. Il pomeriggio saranno premiate le squadre giovanili, dei giovanissimi Biala Juniors a partire 17.30 presso la Casa dell'Energia e poi la sera verranno premiate invece le prime squadre e i migliori marcatori. Oltre a questo però abbiamo voluto mettere insieme tutte le componenti che ruotano intorno al mondo del calcio dilettanti e quindi verranno premiati sia marcatori ma anche le squadre ma soprattutto anche gli arbitri perché abbiamo voluto appunto mettere insieme sia la FICC che l'AIA in questa manifestazione. Noi come arbitri gli organizzatori hanno detto che ci premeranno un arbitro. Quest'anno abbiamo Borriello che sta andando molto bene in regione e abbiamo dato il suo nome Raimondo Borriello. Una manifestazione che si terrà alla Casa delle Culture giovedì 14 maggio fortemente voluta dalla cooperativa con l'intento di dare risalto ad un settore sportivo molto seguito dagli aretini. Quando mi ce l'hanno comunicata a noi della delegazione siamo stati soddisfattissimi in tutto e per tutto in quanto così vengono premiate le nostre società, vengono premiate i nostri ragazzi che partecipano a questi campionati che siamo una delegazione dopo Firenze la più numerosa a livello di iscrizione dopo Firenze. Si sta riavvicinando sempre più il pubblico verso le società, quello giovanile è chiaro perché oggi il giovane porta il nonno, la nonna, lo zio, il nonno e quello. E su quelli siamo contenti perché siamo veramente numerosi e le società aretine stanno facendo un grossissimo lavoro nel settore giovanile. La nostra realtà è in mezzo ai direttanti.